Come nasce quest'idea di fare del gag, no? Perché questo è lo stile. Io so che ti stava venendo la frase di questa idea di fare delle cassate, perché poi fra l'altro... No, mi stava venendo scenette ma era troppo vintage. No, no, infatti scenette è un po' come dire, sai, hai fatto il filmino un po' dei tempi nostri, quindi noi parliamo così. Sì, è venuta l'idea, nasce l'idea intanto per, come dire, levare un po' di ruggine e voler fare qualche cosa. Avevo l'esigenza anche un po' di creare un gruppo che fosse pieno di entusiasmo, insomma, per aiutarmi in alcune idee, fra le quali questa, che è proprio quella di partenza, che riguardava le comiche. Le comiche come quelle di una volta, però, non quelle che solitamente si fanno, le classiche barzellette messe in video, e che fosse fatto anche tecnicamente un po' come si usa fare in tv, no? Con le siglette, quindi con i ringraziamenti, eccetera. La particolarità di queste cassate, che è una webserie che ha avuto tantissime visite, migliaia di visite, durante le cinque puntate, la particolarità è che appunto fa ridere senza parole. È tutta affidata alla mimica di interpreti straordinari, di cui qui abbiamo due rappresentanti, due diapositive, ecco, praticamente. E perché senza parole? Qualcuno mi ha detto, come mai ho utilizzato? Perché molto spesso, se ci fai caso, quando arrivano i video su WhatsApp oppure su Facebook e siamo in una pizzeria, non capisci niente. Giusto, te lo metti così però non lo puoi vedere, quindi poi dici, poi me lo guardo a casa, poi non te lo guardi. Poi tu sai benissimo che io ho un figlio ipoacusico. Ho pensato anche un po' a chi non può, per forza di cose, sentire o capire quantomeno le parole che escono fuori dall'altoparlante di un cellulare. Per cui ho pensato, adesso facciamo questa cosa qua, vediamo come va. Vediamo, mi affido un po' alla mimica di questi amici, insomma, che mi hanno aiutato un po' in questa cosa. E poi partiamo sul web, perché io credo molto nelle potenzialità di YouTube, dei social, eccetera. E devo dire che è stato un bel esperimento, tanto che siamo pronti per la seconda stagione. L'inseguimento è finito, Alessandro? Ancora no, ancora no, ancora no. Quello è un po' il tormentone di questa serie. Sei inseguito, non si capisce perché, da chi, per come. Infatti noi abbiamo lanciato un contest, un finale c'era. Però per renderlo ancora più bello abbiamo pensato a queste tre finali che la gente, vediamo, li vota? Sì, infatti. State divertendo? Assolutamente sì, è una bella cosa. Stiamo divertendo da morire quando giriamo i video, è la cosa più bella secondo me. Ecco, Gaspar, che tipo di esperienza è anche per te che collabori con Gio da diverso tempo? Certamente è una bella esperienza. Quando Gio mi ha parlato di questo progetto ho accettato con entusiasmo, conoscendo anche la professionalità e l'amore che mette nel suo lavoro. Abbiamo lavorato divertendoci e penso che questo molti lo vedono già guardando i nostri sketch.